Ma quando ormai senti tutti dire aiutiamoli a casa loro, cioè facciamo un piano per aiutare i paesi africani... No, è un modo di dire aiutiamoli a non venire a casa nostra. Ma che cosa c'è di fondato? Che cosa si potrebbe realmente fare? Si possono dare i soldi ai governi? Noi possiamo pagare il Niger? Possiamo pagare la Nigeria? Possiamo pagare il Ghana? Stiamo parlando di paesi in cui i governi sono in qualche modo installati anche per gestire questi traffici. Non è che sono delle persone, dei magistrati attenti al bene comune. In genere, per esempio, il governo nigerino è un classico, è proprio un governo di trafficanti. Lo sanno tutti, però naturalmente noi dobbiamo... Comunque, ci ho detto, posso rispondere alla tua domanda? Io penso che una cosa fondamentale da dire è che noi dobbiamo assicurare che le rimesse degli emigranti arrivino a casa. Perché è il miglior tipo di aiuto che noi possiamo dare a questi popoli.